Sono le 11.42 quando la betoniera rilascia una colata di calcestruzzo. È la posa della prima pietra, o meglio, il getto del primo plinto di fondazione del Palazzetto dello Sport di Cantù che sorgerà sulle ceneri del Pala Babele. Dopo anni di progetti e anche di ritardi burocratici, dunque, e a un mese dall'inizio dei lavori di sottofondazione, questa mattina è stato metaforicamente tagliato il nastro del cantiere da circa 45 milioni di euro che entro 14 mesi darà alla città un nuovo Palazzetto Sport con annessi in multisala, centro fitness e negozi. Mi sarebbe piaciuto farlo diversi anni fa, ma tant'è che siamo arrivati ad oggi ed è per me un grande onore e lo considero anche un miracolo vero e proprio. E quindi è vero, siamo all'ultimo minuto utile, ma ci siamo arrivati. Primavera 2013 è il termine dei lavori secondo la tabella di marcia. Per la stagione 2013-2014, dunque, la squadra di basket potrà tornare a giocare a Cantù in un palazzetto da circa 6.000 metri quadrati. Se oggi nel calcio parlano tutti dello Juventus Stadium, afferma l'assessore ai lavori pubblici Umberto Cappelletti, in futuro, nella palla a canestro, si potrà prendere a modello l'impianto di Cantù. Sarà un palazzetto da 7.000 posti, è uno dei più importanti in Italia, avrà dei consumi molto bassi, sono state fatte delle scelte di risparmio energetico. Non solo sport, però, nella nuova struttura, che infatti avrà un'area commerciale che potrà ospitare 50 negozi e un parcheggio da circa 670 posti, ma anche un'area fitness e benessere con piscine e infine un cinema con sette nuove sale che si aggiungeranno le tre già presenti nella vicina Cinelandia Cantù 2000. Ci saranno tre sale di qualità, quindi senza popcorn specificatamente per il cinema di qualità, una sala di 26 metri per 15 di altezza, quindi praticamente esplosiva, e poi le altre sei sale. Questo si legano altri 1500 metri quadri divisi tra spazio di ristorazione e soprattutto spazio famiglie di ristorazione e soprattutto spazio famiglia.